Una passeggiata da Castiglionfibocchi fino al borgo di San Quirico, non solo per ammirare il panorama sulla vallata, ma per conoscere i segreti della volta celeste. Questo l'appuntamento organizzato dalla Proloco di Castiglionfibocchi, al quale hanno preso parte grandi e piccini, seguendo la spiegazione dell'esperto Aldo Luttini. Grazie ai telescopi è stato possibile ammirare il cielo stellato e conoscere da vicino Saturno e la Luna con i suoi crateri. L'astrologia non è stata l'unica protagonista di una serata alla quale ha preso parte anche il sindaco di Castiglionfibocchi, Salvatore Montanaro. Erano presenti infatti anche alcuni archeologi dell'Associazione San Quirico Archeologia, che hanno illustrato i segreti di San Quirico e della sua pieve. Uno scenario suggestivo nel quale l'astrologia si è unita all'archeologia in un luogo dove nel corso degli ultimi anni, grazie agli scavi, è stato possibile rinvenire importanti reperti, in particolar modo dell'epoca paleocristiana. Una serata all'aperto che ha riscosso non solo il successo, ma anche il gradimento di chi ha voluto trascorrere una serata all'insegna della storia e della scienza.